Allora ragazzi, stiamo andando a provare l'abito delle mie damigelle, damigella 1, damigella 2 e damigella 3, carichi? Carichissimi. Ciao Elettra. Buongiorno da Mondello. Ma possiamo dire dove andiamo? A Napoli. Dai diciamolo dove andiamo. Andiamo a Napoli a provare di nuovo il mio abito e le damigelle pure, eccole qua. Le tette. Qui mi riprendono niente. Guardate dove siamo. Siamo... Siamo... In una pizzeria dove siamo? In una pizzeria, guarda che belli. Questo qua adoro. Io pazza, io pazza. Ti senti un po' e mezzo Lucrezia? Ti piace questo vestito? Ma devo dire che dopo un po' che ci sto... Qui sono tutte nude ragazzi. Vi posso inquadrare o mi si via? Simone! Ragazzi vorrei troppo farvi vedere il mio abito della sposa, ma è troppo bello. Non posso. Troppo. E... È bellissimo. È troppo bello. E... Niente, stiamo organizzando ancora. Non mi sposo più a Lago di Garta, ma voi non lo sapete. Forse sì. Ma eravate rimasti alla location di prima. E... Tutti cazzi, ragazzi. Mille cazzi di organizzare un matrimonio. Non vedrò che finisca, vi giuro, perché è uno stress atomico. non vedrò che sia? Non vedrò che finisca la parola.